Siamo con Alberto Cionini a Genova Molassana in via San Felice 110 Rosso. Nella sede operativa Cionini SRL, qui realizzano tende da sole, infissi e tantissimo altro. Alberto, ci racconti un po' della tua azienda e da quanti anni sei in questo settore? Sì, certo. Allora, io siamo operativi più o meno da 70 anni. L'azienda è storica perché è iniziata da mio nonno, poi è andata mio padre, adesso ci siamo noi, io e mia sorella, Patrizia, che gestiamo praticamente l'attività di famiglia. Quindi possiamo dire che è 70 anni che siamo nel commercio. Ok, ma tu un po' meno direi, da quanti anni hai cominciato? Beh, io ho iniziato a 14 anni, ora ne ho 52, quindi direi che comunque più di 30 anni ci so. È un bel po', è un bel po', è tante esperienze nel settore. Sì, sì. Quali marchi trattate maggiormente? Allora, noi trattiamo più che altro per le porte interne Bertolotto Porte, che è un marchio, comunque un buon marchio nel settore delle porte. Poi abbiamo altri marchi sulla sicurezza che sono Ginko, Corus, oppure abbiamo altri marchi ancora sugli infissi che sono Aluplast e altri, Geal. Ne abbiamo di marchi che trattiamo, sono tutti i nostri partner da anni e quindi riusciamo a dare un servizio comunque completo ai nostri clienti. Ma vedo anche che lavorate a livello artigianale, quindi magari se qualcuno ha delle esigenze particolari, tu riesci a trovare delle soluzioni ad hoc? Sì, sì, l'azienda è un'azienda artigianale a tutti gli effetti, quindi siamo nati nel settore dell'alluminio e continuiamo ancora adesso nel settore dell'alluminio e produciamo questi fissi qua ad arco, per noi ma anche per altri seramentisti che ce lo chiedono. Qua ad esempio abbiamo un prodotto finito e quindi facciamo questi lavori qua, sì. Poi facciamo anche altre lavorazioni particolari che sono taglie presso piegature delle lamiere, sempre prodotti che diamo a altri seramentisti, a altra gente che è nel nostro settore. E ho letto lì e anche sul vostro sito, diamo forma ai tuoi infissi. In che senso? Diamo forma ai tuoi infissi perché noi da una barra dritta, che potrebbe essere questa qua, questa è la barra dritta, ci realizziamo questi infissi qua ad arco, qua vediamo delle persiane, degli infissi già fatti. Ecco, la nostra peculiarità è questa qui, riuscire a dare forma agli infissi come uno vuole. Bellissimo, ma vi occupate anche di altro come le pergole? Sì. Contaci un po'. Allora, noi facciamo anche pergotende e tende da sole, diciamo che se voi avete degli spazi, degli ambienti liberi in giardino, li possiamo coprire tranquillamente con dei tendaggi che sono giusto le tende bioclimatiche o le pergotende. E poi facciamo tutte le tende da sole per i terrazzi. Quindi da sfruttare appunto la casa in tutte le stagioni? Certo, uno può sfruttare tanto il terrazzo quanto un giardino e creare degli ambienti apposta per viverci. Ecco, anche a casa mia servirebbe, adesso poi ne parliamo dopo, così ci veniamo incontro. Abbiamo acquisito un cliente. Abbiamo un cliente. Un'ultima cosa, effettuate anche manutenzioni? Assolutamente sì, facciamo anche manutenzioni perché comunque nel nostro lavoro purtroppo capita che si rompa una maniglia o una macchinetta di una tenda e quindi dobbiamo ripararle. Le facciamo sia sui nostri prodotti che anche su quelli degli altri. È un servizio che comunque diamo al nostro cliente. Contattateci perché comunque abbiamo un'esperienza pluridecennale alle spalle e quindi possiamo sicuramente aiutarvi nelle vostre esigenze e rendere praticamente il vostro sogno realizzato. Bellissimo. Allora, vi auguro un buon lavoro a te e a tua sorella Patrizia. Grazie. E alla prossima. Grazie, grazie mille. Grazie a te.